e bello a tutti ragazzi qui è Tanti e vi parlo quando siete bene a sentire o eduardo e ottoniolo come volete oggi mi è successo una disgrazia che ho aperto dei pacchetti di match attacks questo qua si parleremo di questo oggi apriremo tre pacchetti perchè avevo già aperto due pacchetti solo che non avevo registrato quindi mi è andato male mi è andato male comunque ringrazio il donna che me li ha comprate e andremo a vedere cos'erano venuti fuori allora per prima cosa c'era venuto fuori Oblak Oblak del Atletico Madrid Oblak dopo c'era venuto fuori Vida del Dinamo Kiev Hiroshi Kiyotate del Siviglia del Bayern Aviero Hernandez del Bayern 04 Leverkusen Leverkusen del Beg... Marcello del Begiktas e cartaforte no così subito vale 13 euro vale 13 euro vale 13 euro raga raga non ci credo vale 13 euro ma da 13 euro ma da 13 euro gn7 da 13 euro questo allora dopo era venuto fuori del secondo pacchetto adrian silva del Sporting Club Portogallo di Portogallo dopo sempre del Sporting Club Portogallo Matos Pereira dopo Raul Jimenez del Penfica del Penfica Basel cioè del Basel Fransom della Tre Atletico Madrid Nicolás Gaetano ancora la carta più forte che vale 5 euro Danilo 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 non ci credo veramente veramente bellissimo spacchettamento sta venendo il naso il naso altro pacchetto allora codicino lo buttiamo per terra si comincia dell'Atletico Madrid per questo Atletico sono Nigez del Sevilla così Daniel Carrico e Adli e Adli Rami del Sevilla del Borsa sono i luniti dell'Atletico ancora due dell'Atletico ancora Black ancora Black dell'Ionef Jordan Perry la carta più forte del Sevilla ah no scusatemi la carta più forte era questa che vale 5 euro e 50 e invece questo qua Irohish Yokate forse ce lo doppio ecco andiamo a vedere se questo ce lo doppia Irohish doppia come o Black andiamo ad aprire il penultimo pacchetto carta codicino iniziamo ok allora Brian Ruiz del Sporting Portugal eh solo del Bayer Leverkusen Leverkusen Baumart Liger non so come si legge quindi dopo del Dinamo Kiev Garmash non è anche difficile attenzione questo un mio amico albise sarà contentissimo Maish Lang del base un mio amico è contentissimo Alexandro Alexandro della Juve e come ultima carta non è possibile lo scudetto del Barca cosa cos'è sta roba lo scudetto del Barca lo scudetto del Barca come ultimo pacchetto andiamo ad aprirlo allora c'è carta codicino e si comincia l'ultimo pacchetto speriamo che ci sia qualcosa di buono non guardo anche del Napoli speriamo allora Complinaica del Siviglia Andre Almeida del Penfica sono emozionato Maxim Golares Gonalos dell'Olympic Lyons Atletico Madrid Stefan Savic non è no aspettate c'è un bar Sergio Aguero il Kun il Kun del Manchester ma non è possibile il Kun vale 11,50 euro ah no quanto costano i giocatori ah scusate quindi quanto costerebbero Boateng 100 club del Bayern vai andiamo a vedere quanto costano tutti i giocatori allora iniziamo allora allora Boateng costa 13 milioni e 5 costa 13 13 13,5 milioni il Kun 11,5 milioni Savic 5,5 milioni Gonalos 6,5 milioni Andrea Almeida 5,0 milioni 5,0 milioni Conoplaica 6,5 milioni vabbè 6,5 milioni ora ve lo faccio rivedere lo scudetto del Barca non costa soldi alexandro 5,0 milioni 5,0 milioni 5,0 milioni Michelang 4,0 milioni 4,0 milioni 4,0 milioni 4,5 milioni scusate Garmash 4,5 milioni 4,5 milioni anche lui Baume Bauma Trudinger vabbè 6,0 6,0 milioni Brian Lewis 5,0 milioni 5,0 milioni 5,0 milioni allora qua quanto costa la coppia no scusate un attimo ci sto capendo vabbè costano 5,5 milioni Daniel Carrico e Adi Rami a mettere dopo Saul Niggerts costa 7,5 milioni 5,5 milioni costa Samuel Lumiti Giano Black ce l'abbiamo doppio 6,5 milioni Jordan Ferri 5,0 milioni Irokishi Kiyotate 6,5 milioni Adrian Silva 5,5 milioni Mato Espirera 4,5 milioni Raul Jimenez 5,0 milioni Alex Fresson 4,5 milioni Nicolas Gleitann 9,0 milioni no eh è tanto si Oblac ancora 6,5 milioni Vida 4,0 milioni Iyokate Kiyokate Kiyotake Ancora 6,5 milioni Hernandez 8,5 milioni Marcello 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 4,0 milioni 4,0 milioni Danilo ve lo faccio rivedere 5,0 milioni 5,0 milioni 5,0 milioni è un po' strano ma è giusto e invece Iyokuawa il nostro campione che è il numero 7 Christian dovete dirlo voi cristiano 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 vabbè 13.0 milioni ovviamente tutti di euro e per oggi è tutto vi saluto